E' una delle meraviglie di questa chiesa, dicevamo il fonte battesimale, Don Ciro che ha una sua storia perché sembra che questo sia uno dei più grandi d'Italia. Sì, in effetti quando è arrivato il delegato per la liturgia e ha visto questo fonte battesimale ha detto che è uno dei fondi più moderni, chiaramente, più grandi che ci sono in Italia. Effettivamente questa forma ottagonale sa significare l'ottavo giorno, il giorno di Cristo, il giorno di Cristo risorto. E' qui che alcuni bambini ricevono il battesimo, il battesimo per l'immersione la notte di Pasqua, anche se durante la pandemia non siamo riusciti a farlo. Adesso ritorna però. Sì, adesso un po' alla volta ritorna. E quindi vediamo come questo fonte che è il segno della nostra consagrazione battesimale, questa consagrazione che dobbiamo sempre di più però rafforzare nella nostra vita e essere convinti che realmente in questo battesimo noi siamo consacrati in Cristo Gesù, sacerdote, re e profeta. Quindi viviamo una consagrazione battesimale per tutti i Cristi fidelis, laici anche. Perché la notte di Pasqua, la notte del sabato? Allora, la notte di Pasqua, vedendo un po' la storia anche del cammino dei primi cristiani, ecco, in questa notte si svolgevano i riti. E in modo particolare, durante la Quaresima c'era una preparazione dei neofiti, i 40 giorni prima della Pasqua. All'inizio addirittura erano due anni di preparazione per il battesimo, poi man mano anche nei padri della Chiesa, questi 40 giorni che preparano al sacramento del battesimo attraverso dei riti, attraverso dei momenti particolari di conversione e quindi anche di impegno per ricevere poi il battesimo quando si riceveva da adulti. Adesso invece noi lo facciamo ai bambini e quindi nella fede dei genitori c'è questa consacrazione che ricevono loro, ma che tutti noi cristiani abbiamo ricevuto. E questa dimensione profetica, sacerdotale, regale e che significa, ecco, approfondire la nostra fede, rafforzare il momento liturgico sacramentale, entrare in questa dimensione di carità e proprio nasce qui, da questa fonte di grazia. E' il dono di Gesù, andate, evangelizzate, fate i miei discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la notte di Pasqua, il sabato santo, sera di notte, c'è proprio tutta una liturgia che riguarda, all'inizio, come è entrata la luce e poi l'acqua. Sono i segni, ecco, della nostra salvezza che Gesù ha operato profondamente per tutti noi. E ci auguriamo tutto questo. Vivere profondamente il segno di Pasqua significa porre un atto di fede. Cristo è veramente risorto, dicono le donne, ritornando dal sepolcro. E anche noi dobbiamo proclamare, Cristo è veramente risorto. E la nostra fede ci chiede proprio questo. E vivere questa dimensione, ecco, della risurrezione, significa per noi cristiani entrare in una grazia particolare. Significa che Gesù ci ha fatti partecipi della sua vita immortale. Portiamo in noi questa scintilla di Dio, che è la nostra anima, che è immortale e continua a vivere dopo la nostra morte. Questa è la fede cristiana. Questo è ciò che il catechismo della Chiesa Cattolica ci propone. E noi siamo chiamati a vivere questa dimensione pasquale della vita. Una dimensione pasquale che significa, ecco, recuperare tutti i segni e tutto ciò che abbiamo detto durante il nostro cammino questa mattina, perché davvero possiamo poi professare la nostra fede concretamente, essere uomini e donne cristiani maturi ed avere la certezza che Cristo è veramente risorto. Alleluia, alleluia.